telematch è l'oggetto misterioso telematch è stato uno dei primi programmi televisivo a premi di grande successo della rai telematch andò in onda per 78 puntate trasmesse di domenica alle ore 21 e 15 dal 6 gennaio del 19 57 al 13 luglio del 58 erano in tre a condurlo Enzo Tortora Silvio Noto e come inviato Renato Tagliani un momento di interesse era il gioco dell'oggetto misterioso Tagliani andava in giro per le piazze d'Italia e faceva vedere un oggetto del quale occorreva indovinare il nome del suo uso a gioia la trasmissione approdò il 20 ottobre del 57 e la foto ritrae il palco allestito in piazza d'uomo per accogliere la trasmissione una folla enorme si riversò in piazzetta con la speranza di vincere la posta ma anche per avere un attimo di notorietà nell'apparire in televisione oggi grazie all'emico franco crudo che conserva nella mente nel cuore episodi della nostra gioia vi propongo questo posto con la giunta dei volantini che l'amministrazione comunale fece stampare per comunicare alla cittadinanza l'evento